Per la prosecuzione di Campobasso, Turris Cudini, in tribuna perché squalificato, sceglie un 3-4-3 con Zammarion fra i pali. La conferma di Nacci a centro campo, Bolsius al fianco di Rossetti e Liguori, quest'ultimo in uno stato di grazia incredibile. Non c'è Tengorang per un forte dolore alla caviglia, Caneo non può contare sull'infortunato Santaniello. Gli spettatori superano le mille unità con rappresentanza ospite. Buoni questi numeri se si pensa al giovedì pomeriggio e ai soli 45 minuti da giocare. Si riparte dal 2-1 per la Turris, montaggio di Antonio Trotta dopo un minuto. Da Giannone a Leonetti i campani potrebbero triplicare ed è bravissimo Zammarion a deviare in calcio d'angolo. Scampato il pericolo si scatena il campo basso sin da subito tutto nella metà campo campana. Al dodicesimo da cross di pace allontana Manzi sui piedi di Liguori che si porta il pallone sul mancino e fulmina Perina. Ora è Campobasso 2-2 Turris 2, undicesimo centro di un Liguori incontenibile. Il rosso-blu potrebbero mettere la freccia al sedicesimo con un destro a giro di Rossetti di pochissimo impreciso. Al diciottesimo calcia Persia da fuori area Perina. Non trattiene errore del portiere ospite, riprende Liguori che dribbla all'estremo e viene atterrato. Calcio di rigore che appare netto dal dischetto però Rossetti si fa parare. La conclusione da Perina si rimane in parità. I campani non pervengono a Selvapiana al ventottesimo dalla punizione di Tascone. C'è la presa sicura di Zamarion. Mentre nel momento più bello per il campo basso ecco il nuovo punto della Turris. Al trentaquattresimo il servizio di Leonetti per Manzi. Scivolata di pace. La palla perviene a Pavone che offre a Franco. Diagonale a mezz'altezza e palla in rete. Turris 3-campobasso 2. La coppia Cudini-Antoniozzi effettua tre cambi. Dal trentasettesimo dentro Imausso, Bontai e Mercai. Al posto di Nacci, Sbardella e Rossetti. Caneo inserisce Nunziante per Giannone. Il campo basso non vuole mollare. Al trentottesimo sinistro alto di pace. Al quarantaquattresimo dentro di Francesco. Fuori Bolsius comandati tre minuti di recupero. Al novantesimo la Turris protesta vivacemente per un presunto fallo. di pace su Nunziante che è lanciato a rete. Non viene ravvisato nulla di irregolare da parte del signor Angelucci di Foligno. Siamo ora al novantatreesimo. Il campo basso trova il secondo calcio di rigore del mezzotempo. Il terzo complessivo per questo intervento di Finardi su Liguori. Quest'ultimo imbeccato molto bene da un taglio profondo di Candellori. Dal dischetto si presenta Emma Usso che realizza. Perina intuisce ma non trattiene. Vivaci anche qui le proteste della squadra. Ospite campo basso Turris finisce così. 3 a 3. Gara ricchissima di episodi. Il campo basso sale a 42. E con un successo domenica potrebbe trovare la salvezza diretta. La Turris guadagna quota 46.